Ben trovati anche con la pagina sportiva, in primo piano il calcio, la lucchese, i rossoneri di scena domani a macerata contro la re canatese, Guido Casotti. E' iniziata sabato pomeriggio la lunga trasferta nel tempo e nello spazio in terra marchigiana, ultimo lavoro di rifinitura la conferenza stampa di Maraia e poi la lucchese è partita alla volta di macerata dove domani ore 14.30 affronterà la re canatese. In realtà la truppa rossonera non rientrerà a Lucca anche perché mercoledì sarà impegnata a Pesaro contro la Vis e tanto vale allora restare da quelle parti. La potremmo chiamare una sorta di campagna marchigiana. Una alla volta però direbbe il saggio e la prima si chiama re canatese. Intanto si giocherà allo stadio Elvia Resina di Macerata, un po' come è successo col Sandonato Tavarnelle costretto a migrare a Montevarchi. Maraia è alle prese con due spine, il tour de force la lucchese sta giocando e giocherà ancora nel ritmo di una partita ogni 3-4 giorni. E l'infermeria, Coletta, Pirola, Romero sono out, mentre Di Quinzio è partito con la squadra e mercoledì potrebbe andare in panchina. Detto ciò è scontato che con tre partite in sette giorni ci sarà a gioco forza un po' di turnover. Intanto contro la re canatese questo è il probabile schieramento col 4-3-3. Cucchietti in porta, Quirini, Tiritiello, Bacchini e Visconti in difesa, Tumbarello, Franco e Mastalli in mediana, Semprini e Bruzzaniti a sostegno del centroavanti bianchi in mano. Il pallone racconta che non ci sono precedenti e che tra re canatese e lucchese è la prima volta in assoluto. Ma il pallone può invece sussurrare che l'abbrivio della neopromossa compagine marchigiana nella terra dei Leopardi è stato discretamente complicato. Sarà la quarta gara casalinga per i giallorossi di Pagliari, unica squadra che non ha ancora vinto. Al Resina finora due pareggi con Vispeso e Refermana, anche una sconfitta 0-2 con la Torres. Numeri impietosi che però non devono illudere nessuno, tanto meno la lucchese. Passiamo adesso alla presentazione del campionato di Serie D affidata a Roy Lepore. Nel campionato di Serie D trasferta a Ravenna per il Real Forte Querceta, dopo la vittoria con il crema di 3-2, avversari che hanno espugnato il campo della Correggese che li ha portati dietro a tre lunghezze dei ragazzi di Simone Venturi che sono in zona playoff e hanno tutte le intenzioni di portarsi a casa a quantomeno un punto. Il Seravezza Pozzi è ancora fuori dal suo campo, il buon riposo in attesa del rifacimento del terreno insintetico. Gioca domenica pomeriggio alla comunale di Camaiore contro l'Ostia Mare. La squadra scorbutica che ha perso in casa 3-1 con il Città di Castello mancherà ancora per squalifica Camarlinghi. Il Giviborgo, dopo aver ospitato il Livorno, riceve la capolista Arezzo e per l'occasione la società, come aveva fatto con il Livorno, ha inviato in settimana una lettera di benvenuto alla società, alla squadra e ai tifosi, compreso il DG Paolo Giovannini che dalla Valle Lucchese ha spiccato il volo verso il calcio importante. Massimo Maccarone dovrà fare a meno ancora di Manuel Pera squalificato. Il tau calcio è in trasferta sul campo del Terra Nuova, senza Cesaretti squalificato, ma è disponibile cartano. È una partita che pur in trasferta può essere alla portata dei ragazzi di Cristiani, in quanto i padroni di casa sono penultimi in classifica, due lunghezze dietro al tau, che riuscendo a muovere la classifica guadagnerebbe posizioni contro una diretta concorrente per la salvezza. Il calcio di Lettanti nell'anticipo della quarta giornata del campionato di promozione toscana, girone A, il Pietrasanta si impone contro il Malisetti per 2-1. E adesso passiamo al basket. Lemura ospita il San Martino di Lupari in una sfida ormai classica del basket femminile italiano. Di nuovo Guido Casotti. Lemura, San Martino di Lupari, domenico ore 18, sfida che si preannuncia divertente alla luce dell'attitudine dei due tecnici, Andreoli e Serventi, nel proporre un basket frizzante e intenso. Alla ricerca di nuovi equilibri tattici dopo la pesante tegola subita la seconda giornata, stagione finita per Geling e Agnew, Lucca potrà contare sul calore del pubblico per ritrovare la via del successo. Ben quattro i volti noti in giallo-nero di chi ha difeso i colori del Gelsan Lemura. Coccia Serventi, la playmaker Russo, la la piccola Pastrello e la pivot polacca Kasmarczyk, protagonista lo scorso anno di una bella stagione all'ombra delle Mura. Domenica scorsa le Venete hanno centrato la prima vittoria stagionale, superando tra Lemuramiche e Moncalieri. Fin qui le patavine viaggiano con una media di 66 punti, sotto le plance si muoveranno Derdice e Kasmarczyk, Washington agirà dalla piccola, mentre le esterne saranno Milazzo, un fattore dall'arco, e Francesca Russo. Mentre la società del basket Lemura cerca di capire se andare sul mercato per impiazzare la Agnew, la squadra ha vissuto una buona settimana di allenamenti, lavorando sul piano tattico e sui movimenti difensivi e offensivi. Lo starting five lucchese sarà Morrison, Natali, Parmesani, Miccoli e Traffers. Il pallone a spicchi racconta che al pala tagliate, l'ultimo precedente tra le due squadre, risale al 21 marzo scorso e vide la squadra lucchese imporsi 69-61. Non fu assolutamente una gara facile per le ragazze di Andreoli, che andarono anche sotto nel punteggio. Già orfane di Sidney Weasley e Biancorosse giocarono comunque una gran bella partita, che permise loro di insediarsi al quarto posto alle spalle di Schio, Venezia e Bologna. Trascinatrice del complesso lucchese, in quella sera di inizio primavera, la solita e indomabile capitana Maria Miccoli. Ed è tutto anche per l'informazione sportiva. Di nuovo un breve break e poi torniamo con l'ultima parte del TG Noi.